Ma noi quando ci innamoriamo, ci innamoriamo della persona in se stessa o della maschera che questa persona utilizza? Bene, la cosa interessante, e questo per rispondere a Valerio, un amico che mi segue su YouTube e che pone questa domanda. Quando noi ci innamoriamo non riusciamo mai a interagire con la persona in sé, anche perché spesso non conosciamo nemmeno noi stessi, quindi è molto difficile riuscire a interagire con l'essenza della persona. Riuscire a interagire con l'essenza della persona è quello che io chiamo passaggio dall'illusione d'amore all'amore. Normalmente noi interagiamo soltanto con la maschera che questa persona utilizza, con la maschera e su ciò che noi proiettiamo di nostro su quella persona. Spesso quando ci coinvolgiamo su una persona che ci genera ad esempio sofferenza, è perché proiettiamo la nostra esigenza di sofferenza su quella persona. Quindi come se facessimo una graduatoria e tutte le persone che non ci danno sofferenza non ce ne coinvolgiamo, su quelle che ce la potrebbero dare andiamo a coinvolgerci lì. Quindi noi percepiamo soltanto la superficie della persona con la quale interagiamo e con la quale ci innamoriamo, e della quale ci innamoriamo. Per questo che potremmo dire che siamo innamorati di un fantasma. Normalmente si chiama illusione d'amore, quella che le persone spesso vivono, proprio perché sono innamorate di un fantasma, di un'illusione. E spesso tutti gli altri vedono questa persona in modo diverso. Noi la percepiamo in questo modo proprio perché genera a noi questa sorta di incantesimo. Ovviamente è anche possibile riuscire a superare, diciamo, questa fase dell'illusione d'amore e passare all'amore. Per fare questo è necessario imparare a governare quelli che sono i nostri turbamenti, capire quelli che sono state le radici dei nostri turbamenti. Perché, come dire, fin tanto che noi siamo governati da delle istanze che non riusciamo a controllare, non riusciremo mai a vivere l'amore in maniera oggettiva. La vivremo sempre in maniera soggettiva come frutto della proiezione che noi facciamo sulle altre persone. Quindi il passaggio consiste nel partire da se stessi e nel liberarsi, potremmo dire, dei blocchi, degli schemi, degli schemi precostituiti, degli imprinting che abbiamo e che stanno governando la nostra vita. Nel momento in cui ci liberiamo di questi possiamo esercitare il libero arbitrio e allora in quel caso lì potremo andare a vedere oltre la maschera della persona con la quale interagiamo perché andremo a cogliere la sua essenza. Cogliere l'essenza della persona è quello che è il passaggio, diciamo, dall'illusione d'amore all'amore e non dà mai sofferenza perché nel momento in cui riesci a cogliere l'essenza riesci anche a capire che magari per quella persona lì o per te è venuto il momento di chiudere la relazione perché ha esaurito tutto quanto poteva esserci. Hai fatto però un percorso d'anima, la tua anima è migliorata, è cambiata e esaurendo un percorso perché noi siamo sempre in cammino e tutto è impermanente, tutto è in costante trasformazione. Credere che l'amore sia eterno quando la vita stessa in questa forma non è eterna anche questo è semplicemente un'illusione. L'importante però è vivere questa situazione in modo positivo, in modo arricchente e in modo tale da affrontare poi nuove esperienze in questa o in altre vite che possano renderci persone diverse, persone migliori, esseri diversi, esseri migliori perché la persona, noi quando parliamo di persone, siamo implicitamente collegati ad un corpo fisico che è anche questa fondamentalmente abbastanza un'illusione. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità come Valerio di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, cliccando sotto su condividi, potrai condividere su tutti i tuoi social, Facebook, Twitter a cui sei iscritto, dando modo quindi ad altre persone di poterlo vedere. Bene, per questo video è tutto. Ti saluto al prossimo. Ciao!